Grazie a tutti. Il Consiglio federale della Lega Nazionale di Lettanti, l'Olimpia gnonese, i nostri di partenza della prossima stagione. Ieri pomeriggio tra l'altro si svolta anche la conferenza stampa del Campobasso. Il punto nel prossimo servizio. Il Campobasso annuncia l'ingresso nella sua compagine societaria del gruppo energetico italiano con una percentuale pari al 20%. La presentazione del nuovo socio Levigas è prevista in giornata nel corso di una conferenza alla quale sarà presente il patron rosso-blu Mario Gesuè. Questi farà gli onori di casa all'amministratore delegato della Holding Augusta Razio, il dottor Flavio Angelo Battista, con cui l'accordo è stato siglato nella giornata di ieri nella sede sociale rosso-blu. Gesuè si è detto gratificato per questo ingresso in società. Ricordiamo che fra il Campobasso e Levigas, che è una delle aziende di proprietà di Augusta Razio, esistevano già rapporti di stretta collaborazione dal passato campionato, quando l'azienda milanese era uno dei main sponsor rosso-blu. Nella conferenza tenutasi ieri alla presenza della stampa di tre giocatori e di tre tecnici, Mandragora, Cudini e De Angelis, si è fatto il punto della situazione partendo dalla vicenda ripescaggio in Lega Pro. In merito si è pronunciato Mandragora, che ha parlato di Serie C, che ha tirato una linea prediligendo le riammissioni. Il mese di agosto ha proseguito Mandragora, potrebbe però riservare delle sorprese. Se dovessero ricorrere tutti i presupposti, il Campobasso si farà trovare pronto. Parola del dirigente rosso-blu. Questioni tecniche rimesse all'allenatore Aldiès. Fra gli argomenti si è parlato anche della trattativa con il molisano attaccante Vittorio Esposito, definito da De Angelis uno dei pensieri del mercato. A sensazione la stessa trattativa potrebbe essere giunta ad una fase di fermo quasi definitivo. De Angelis e Cudini proveranno a migliorare il Campobasso partendo dagli ex giocatori che dovranno essere rimpiazzati, come ad esempio Zammarchi e Alessandro. Anche i due tecnici si sono soffermati sull'argomento ripescaggio che, da quanto è parso, è stato tutt'altro che messo da parte. In caso di quarta serie, il Campobasso proverà ad essere la classica squadra da battere nel girone, senza girarci troppo intorno. Continuiamo a raccontare anche di incroci con la Lega Pro. Ieri il Trapani si è visto respinto il ricorso per riavere indietro almeno un punto dal collegio di garanzia del CONI. Siciliani dunque in serie C, insieme con Livorno e Juve Stabia. Playout da disputare fra Perugia e Pescara. In Alto Molise, esattamente ad Agnone, è giunta la comunicazione dell'accettazione della serie D intorno alle 16 di ieri pomeriggio. Era un atto atteso e per certi versi anche scontato, avendo la dirigenza provveduto a riordinare le carte, secondo le indicazioni giunte dalla Lega Nazionale di Lettanti. A proposito del Campobasso, ieri abbiamo intervistato l'attaccante Pietro Cogliati. Pietro Cogliati, allora è un piacere ritrovarsi dal vivo rispettando il cosiddetto distanziamento sociale. Sono stati mesi di sofferenza, quel primo marzo rimane, l'ultima partita giocata dal Campobasso, si è interrotto tutto lì, quel sogno rosso-blu. Allora le sensazioni dopo qualche giorno di ritiro da parte tua? Le sensazioni sono positive perché riusciamo a ripartire da quel blocco che aveva così fatto bene l'anno scorso, che ci aveva permesso di crederci anche, di arrivare all'ultima partita in casa a fare un bel risultato di fronte a uno stadio pieno. Le sensazioni sono positive. È bello ritrovare vecchi compagni con cui stavi facendo un buon campionato dopo cinque mesi che non di inattività. Quindi fa sempre piacere riprendere, ma in particolare dopo così tanto tempo. Che cosa possiamo aspettarci dal Campobasso del futuro? Si è ripartiti, crediamo giustamente, da una base e da un gruppo ormai consolidato che stava dando delle soddisfazioni. Non toccare quella base è stata una scelta corretta, secondo te? Secondo me sì, perché dimostra che la società ha programmazione, che già gli acquisti dell'anno scorso erano di prospettiva, che comunque si voleva creare un percorso insieme. Quindi la reputo una scelta giusta, anche perché poi i risultati lo stavano confermando. Sei al terzo anno con la maglia del Campobasso, la prima volta che inizi dal ritiro, dall'estate. A questo punto ti potremmo quasi considerare un Campobassano di adozione? Questo non lo so, e di certo qua mi trovo molto bene, anche se lontano da casa comunque ho trovato gente fantastica, il posto mi piace, quindi mi ci trovo bene. Poi quando la gente in giro dice no ma tu non sei di Milano, non ti si riconosce più, allora lì comincerò a farmi delle domande, per il resto però devo dire che sono contento. L'attacco è praticamente da rifare, era un attacco stellare, sei stato l'unico confermato, cioè di Domenico Antonio, ma che cosa ti aspetti al tuo fianco? Giocatori con caratteristiche simili a Zammarchi e Danilo Alessandro? Non lo so, nel senso che l'anno scorso mi ero trovato benissimo con Danilo e Zamma, quindi sarebbe bello ripetere un po' quel tridente d'attacco dell'anno scorso. Ovviamente ogni stagione è diversa, quindi diciamo che sicuramente la società farà le scelte giuste per quelli che saranno i miei compagni d'attacco. Scommentiamo che la trattativa fra te e il Campobasso per il rinnovo sia stata davvero molto agevole, molto semplice, ci sbagliamo? Sì, sì, diciamo che l'intesa è arrivata quasi subito, e l'unico incognito era appunto un po' la distanza, anche il trovare una quadra con la mia famiglia, quindi però diciamo che l'abbiamo trovata e siamo pronti ad affrontare questa stagione. Il Vasto Girardi si è assicurato le prestazioni dell'attaccante classe 97 Silvio Mercai, lo scorso anno a Bitonto, squadra cristallizzata al primo posto in classifica. Questa mattina invece è stato tesserato il portiere classe 2001 Manuel Di Mango, proveniente dalle giovanili in Monza. La rosa del Vasto Girardi va certamente integrata, ma intanto lunedì si parte con il ritiro. Ed ora il basket. Ieri il Consiglio federale della FIP ha ratificato i format dei tornei nazionali maschili e femminili di basket e definito anche il girone di A1 dove è inserita la Monizana Magnolia Basket Campobasso. Il servizio. Nessuna sorpresa sul girone della massima serie nazionale della palacanestro femminile. Sarà una serie A1 a 14 squadre, viste le defizioni di Torino e Palermo. La notizia più importante giunta ieri per i tifosi della Molesana Magnolia Basket Campobasso è che la prima di campionato è in programma domenica 4 ottobre. Ebbene sì, la massima serie si gioca di domenica, quindi i sostenitori dei fiori d'acciaio a meno di clamorosi richieste da parte del club dovrà mantenersi libero non più il sabato, ma bensì la domenica. Nuovi parchè da calcare. La Molesana Magnolia Basket Campobasso assieme a Bantipaglia, Raguse e Sassari saranno una delle quattro realtà che rappresenteranno l'Italia centro-meridionale. Per il resto direzione centro-nord, tre club Lombardi, Broni, Costa Masnaga e Sesso San Giovanni, tre Veneti, San Martino di Lupari, Schio e Venezia, due Emiliano Romagnoli, Bologna e Vigarano e due Toscani, Empoli e Lucca. Il prossimo step sarà la definizione del calendario, ma soprattutto la federazione è al lavoro per stilare un nuovo protocollo per permettere la disputa delle gare con il pubblico. Intanto la Molesana Basket Campobasso, programma in raduno, sosta del Ferragosto e poi via la stagione a fine agosto, visite medico-sportive e avvio della preparazione. In chiusura registriamo una soddisfazione sul fronte giovanile. La playmaker brindisina Giorgia Amatori, tra le ultime reconfermate del team molisano, figura tra i cinque elementi a disposizione del commissario tecnico Giovanni Lucchese dell'Ital Basket Under 17 femminile, impegnata nel nuovo format lanciato dalla FIBA in questo periodo di Covid-19, ossia lo Skills Challenge. Calcio 5 di Serie A2, Maurizio Cornacchione è un giocatore del Cusso Molisi, un giocatore che sicuramente potrà dare il suo contributo alla causa mettendo a disposizione del gruppo la sua esperienza, un accordo che permette al tecnico sanginario di avere una nuova e importante freccia nel suo arco per la seconda stagione consecutiva in Serie A2. Ed ora il calcio regionale, le società di eccellenza e promozione operano sul mercato e qualcuno ha già fissato anche la data della partenza della preparazione atletica. Si sono chiuse l'altro ieri, mercoledì 5 agosto, le iscrizioni per la stagione 2020-2021 dei campionati di eccellenza e promozione e manca poco più di un mese allo start ufficiale dei tornei regionali. Domenica 13 settembre, fischio d'inizio della regular season, mentre l'ultima domenica di agosto al via la Coppa Italia. È tempo dunque di riorganizzarsi per le società che ruotano intorno al calcio molisano, tutte a lavoro per allestire organici competitivi. Nelle operazioni di calcio mercato spiccano in assoluto la nuova società dell'Isernia, nata dalle ceneri del Rocca Sicura, e l'Aurora Alto Casertano, due club che, diversamente da quello che si poteva immaginare dopo la crisi legata all'emergenza sanitaria, hanno investito prepotentemente sul mercato e lo stanno dominando alla grande. L'Isernia è ripartita con la guida tecnica di Fabio Di Rienzo, che aveva già vinto un campionato di eccellenza tre stagioni fa, sempre alla guida della panchina bianco-celeste, e che quest'anno ha puntato su giocatori a lui già noti e di grande affidabilità, quali Sabatino e Di Leonardo in difesa, Maggi in porta, e un attacco di tutto rispetto, composto da Petrone, attaccante ex Vasto Girardi e vera punta di diamante, insieme a Lombardi, Calcagni e Di Tullio, tutti e tre ex Rocca Sicura. Oltre al ritorno di Mingione, che ha vestito la maglia dell'Isernia per anni e conosce la piazza molto bene. Una rosa dunque che parla da sé e con le idee chiare fin da principio. Nonostante ciò, il neonato club Città di Isernia resta vigile per ulteriori colpi di mercato. Discorso simile per l'Aurora Alto Casertano, che resta fedele alle dichiarazioni dell'anno scorso, quando la società aveva affermato di voler disputare un campionato di assestamento e puntare poi alla vittoria nella prossima stagione. Ora i presupposti per farlo ci sono tutti, in quanto il team Campano ha ufficializzato l'ingaggio della coppia difensiva Scudieri-Vallefuoco e Di40, proveniente dal Venafro. Evante inoltre è un reparto offensivo di grandissima qualità. Oltre ai riconfermati Sisti e Poziello, l'Aurora Alto Casertano ha reclutato infatti Nicola Panico, capocannoniere delle ultime tre stagioni di eccellenza. Inoltre Luigi Rega, esterno offensivo ex Venafro, e c'è un accordo di massima anche con il noto attaccante Marco Di Matteo. Per di più, nelle ultime ore è stato ufficializzato un altro importante acquisto tra le fila dell'Aurora, Antonio Canale, ex Primavera del Bari, e l'anno scorso in forza al Gladiator, società di Serie D. Le Agli Campodipietra stanno giocando bene le loro carte. Dopo l'ingaggio di Albino Fazio, giocatore di esperienza e tassello fondamentale, è arrivata nelle ultime ore la conferma della guida tecnica. Mario Cordone, che ha sapientemente diretto la panchina rosso-blu nell'ultima stagione, e la conferma di Mustafatou Re, uomo assist e tra le prime riconferme del mosaico di Campodipietra. Il club del presidente Iacovelli è ancora alla ricerca di un difensore e di un attaccante, per completare la rosa, che molto probabilmente resterà in buona parte la stessa della passata stagione. Anche il Venafro punta alla riconferma dello zoccolo duro della squadra, ma in più si è assicurato Daniele Napoletano, attaccante classe 93 dalle grandi potenzialità, la cui fama lo precede, e che, per citarne qualcuna, un anno con il Treppini Matese, è riuscito a realizzare addirittura 45 gol in campionato. Napoletano è sicuramente un giocatore che da solo può fare la differenza, per cui il Venafro potrà senz'altro competere per la zona play-off. Molte le società che hanno riconfermato buona parte degli organici della scorsa stagione, Il Baranello, dopo il primo anno nel massimo torneo regionale, riparte da pedine fondamentali, come Zurlo, Paolo Antonio e Vinci Guerra, con la conferma del tecnico Emanuele Di Chiro. Stessa strada, intrapresa dal Gambatesa, che potrà contare ancora su elementi già consolidati, quali Fabio Ruggero, Palange, Di Iorio, Di Criscio e Mariano Bruno, e due portieri, Capitan Capobianco e Neuroni. Guida tecnica del club Fortorino Silvio Cinquino. Nuovi assetti societari, invece, per il Boiano, dove ha fatto Capolino un nuovo organigramma, e per il Termoli 1920, che ha ripuntellato la dirigenza e che per il momento ha riconfermato alcune pedine, tra cui il portiere Bruno, in attesa di sviluppi sul fronte del calciomercato. L'Ala Fidelis, team di Alfedena, che ha preso parte al campionato di promozione l'anno scorso, ha presentato domanda di ripescaggio ed è già in piena attività, vista la nuova imminente esperienza in eccellenza. La novità è l'ingaggio dell'allenatore Antonio Cerrone, confermato in oltre gran parte dell'organico, con l'innesto di giovani del posto e della vicina regione Campania, soprattutto per quanto riguarda Iander. Anche il Bolturnia è stato ripescato nella massima serie regionale e riparte, salvo colpi di scena, dalla guida tecnica di mister Farrocco, che ha portato la squadra dalla prima categoria all'eccellenza. La campagna di acquisti di mercato prosegue ed è particolarmente dinamica, forse anche inaspettatamente, visti gli ultimi difficili mesi. Le preparazioni atletiche di tutte le squadre inizieranno intorno al 17 agosto, prima dell'attesissimo fischio d'inizio, che quest'anno sarà ancora più emozionante. Una nuova avventura per mister Carmine Rienzo. La Turris, neo promossa in promozione, ha affidato la panchina ad un tecnico con una lunga esperienza sui campi molisani, tra prima squadra ma anche settore giovanile. Vediamo. Mister Carmine Rienzo, nuova guida tecnica della Turris a Santa Croce di Magliano, con quali obiettivi? Gli obiettivi con la società non li abbiamo fissati, però naturalmente essendo una neopromossa e dobbiamo la prima cosa, il primo step è la salvezza. Poi è normale che durante l'arco del campionato, ogni domenica, cercheremo di alzare l'asticella. Torni nel campionato molisano dopo un anno di assenza, stimoli importanti per te, tanta esperienza da mettere a disposizione dei gruppi? Ma sinceramente gli stimoli li ho sempre avuti, poi ho detto particolarmente a Santa Croce, vuoi perché mi lega tanto al compianto Vincenzo Cosco che era un caro amico, vuoi perché è una società che comunque ha fatto sempre calcio ad altissimo livello nel campionato molisano, quindi sono particolarmente motivato e orgoglioso della loro chiamata. La Turris torna in promozione, è una società gloriosa che ha fatto calcio ad alti livelli, si parte sicuramente da una base collaudata che era quella della prima categoria. Sì, devo dire, insieme alla società, al DSV Tetti, stiamo cercando di allestire l'organico e di mettere quei tasselli che ci possono far fare il cosiddetto salto di qualità e la mancanza, qualche tassello che mancava l'anno scorso nel loro organico. Quindi il DS è in pieno fermento, contatti con vari giocatori, ora vedremo, lunedì abbiamo una riunione e facciamo il punto della situazione. Una squadra seguita anche nel campionato di prima categoria, un pubblico caldo e sempre vicino alla squadra, potrà essere questa la vostra arma in più? Sì, va bene, al di là del campo che è situato proprio al centro del paese, è normale, io ho visto l'anno scorso più di qualche partita, quindi è molto seguita da parte dei tifosi, tifosi calorosi, quindi è importante avere il loro apporto, ma soprattutto l'entusiasmo lo dobbiamo dare noi con i risultati, perché se vengono i risultati si crea quel giusto entusiasmo tra squadra e tifosi. La scuola calcio Olympic Isernia ha ufficializzato l'affiliazione con il Perugia Football Academy, una collaborazione non solo sportiva, ma che comprende una serie di attività educative, formative, coesione e integrazione che il club molisano da vent'anni porta avanti. Ed ora l'Atletica e i tesserati del gruppo sportivo Virtus sono impegnati quotidianamente al campo con Nicola Palladino per preparare i prossimi appuntamenti. Vediamo. Giulia Magri, portacolori del gruppo sportivo Virtus, si è tornati alle gare dopo un lungo stop. Quali le sensazioni e com'è andata per te? Ovviamente è stato emozionante gareggiare dopo diversi mesi di pausa, però abbiamo tutti avuto delle bellissime sensazioni, infatti recentemente abbiamo iniziato a gareggiare sia in regione sia fuori regione, infatti ad Agropoli siamo andati recentemente e è stato molto bello riniziare. Dal punto di vista personale, soddisfatta dei tuoi risultati? Sì, dai abbastanza, ovviamente si punta sempre al massimo, però abbastanza soddisfatta dai. Facendo un passo indietro, come hai gestito la lunga pausa dovuta al lockdown? Ci siamo tutti quanti allenati individualmente nei pressi e nelle vicinanze delle nostre abitazioni e sotto consiglio ogni giorno e costantemente dei nostri allenatori. Per quanto riguarda il salto in lungo, che è la tua specialità, quanto è difficile preparare una gara? È abbastanza difficile anche perché durante appunto questo periodo di lockdown è stato quasi impossibile allenarmi sulla mia specialità poiché non avevo in possesso l'ambiente giusto, diciamo. Però una volta tornati al campo diciamo che ce la stiamo mettendo tutta per allenarci sempre di più sul salto in lungo. Da qui in avanti si gareggerà praticamente tutti i fini di settimana, dal punto di vista personale qual è il tuo obiettivo più importante? Ovviamente migliorare il mio record personale e cercare di fare il minimo per i campionati nazionali sarà molto difficile, però proverò ad avvicinarmi il più possibile. Prima del lockdown avete avuto modo di testare la vostra condizione attraverso le virtusiadi che sono un appuntamento storico per la vostra società? Sì, sì, appunto qualche settimana prima delle gare ufficiali abbiamo fatto queste virtusiadi e ognuno si è testato sulle sue specialità per provare a vedere quali fossero le nostre condizioni fisiche. E in chiusura vi segnaliamo un appuntamento, si prepara la Ferragosto, anche l'Orso delle Vigne, l'agriturismo di Frosolone propone un doppio menù, quello per adulti con antipasto, due primi, un ricco, secondo e dolce finale, mentre per i più piccoli è previsto un menù speciale, per informazioni e prenotazioni potete contattare i numeri che vedete in sovraimpressione. Ebbene questa notizia va a chiudere l'informazione sportiva di oggi, vi ringrazio per aver scelto il Tg Sport di Telemolise e vi auguro un buon proseguimento con le nostre trasmissioni e vi rimando l'appuntamento con il Tg della Sera e con l'aggiornamento anche sulla conferenza stampa del Campobasso che questo pomeriggio presenterà il nuovo socio. È tutto, grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti, grazie a tutti.